Ecco qua il tiratore scelto, aspetta, non sparare, questo qua è un fucile aria compressa di quelli là libera vendita con il canocchiale, è un... che marca è questo qua? È un Diana? No, è un Gamo, mi sembra che è un Gamo adesso proverà a rompere una bottiglia che abbiamo gettato lì nel prato, eccola lì, non so se la vedete prova a sparare, eccola lì, spaccata proprio, lui è un tiratore scelto, questo è il calibro 4.5 e spara questi pallini qua, fai un po' vedere questi pallini questi pallini che sono 4.5 di calibro e ha una discreta potenza perché deve far rompere quella bottiglia che era molto dura anche a un 10 metri di distanza lui è il tiratore questo è il fucile io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao